Caselle torinese, via cena, proponiamo trilocale, composto da ingresso living, su sala con angolo cottura, primo piano con ascensore, balcone, accessibile sia dalla sala che dalle due camere da letto che adesso andremo a vedere, tende invernali e tende estive, riscaldamento autonomo, questo è il locale caldaia, zanzariere a carro armato, quindi possiamo regolarle e lasciarle dove vogliamo, portablindata, videocitofono, disimpegno dove troviamo tutta quanta la zona notte, prima camera, che può essere utilizzata come cameretta studio o zona hobby, antifurto perimetrale volumetrico, seconda camera, matrimoniale, molto molto spaziosa, anche qua porta finestra per l'accesso diretto al nostro balcone, armadio a muro nel disimpegno fatto su misura dove possiamo trovare qua dietro tutti quanti gli attacchi per lavatrice e asciugatrice, ci stanno una sopra l'altra e qui poi abbiamo un po' di ripostiglio, bagno con box doccia e vasca, sono presenti anche box auto singolo e cantina e per il resto potrete visionare tutte quante le foto sul nostro sito. Grazie.